Salve a tutti! Non buttate questa serie su Nihon 2 Kiamatai Yo-kai è ok che è... Sushi chi sei? ok che cosa fa? Ehi! Oh bene! Chi trova un amico trova un tesoro Cacchio E c'ho qua l'amico mio che infatti Beppe mi sta rivelando un... un tesoro Perchè Ah! Intiparalisi Mmmmmmmmmm Intiparalisi Mmmmmm Equipaggiamento Allora Haizir Ma mia peita le eviterei io mi metterei stuogo antiparalisi sai com'è non si sa mai allora questa è zona brutta mamma questa è zona brutta questa è zona brutta zona brutta questa è eccolo torta di quella e si pure ecco ma ninja noin oh ok wait a minute offerta bazarco dama questi ce li ho già tutti benissimo e scorte quindi uno solo me ne serve vabbè ok ce l'ho al massimo e poi e poi è come morire la cosa buona è che la tomba è il vicino ora valutiamo ok 28 27 16 tutti più scherzi vabbè ah ok questo più avanti servirà non adesso comunque 28 quello sembra un po' meglio è questo però solo due tazze mi costa solo due tazze mi costa solo due tazze va bene eeeh eeeh si salve ok vai tu vai tu vai tu vai tu ok ok e giro lo aggiungo all'inventario te come sai si silent non stai benissimo va bene eeeh facciamo una cosa eh ecco ci puliamo cosi rastro aaaah no no me senti no troppo rischioso ok aaaah ah Ah Sembra l'acqua Tutto assai morto Dai Pura Eh È morto? Ma non è questo lo yokai? Un arco lungo che non Non è questo quello yokai? Frecce sacre Sono servite come? Fammi un attimo Capi la situazione Scusate un attimo Un'uncchia come un'uncchia brutta Eccolo Non fa portello Eccolo 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 Oh No 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 Dove devo andare Mila 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 Ok Minchia ha perso Non ci sono qui Ok Ok Minchia da si sente Minchia da si sente Ok Aspetta Aspetta eh Aspetta No Non prego Perché se no ritornano tutti No Invece io devo pulire qua Devo pulire e ripulire Che è che tira cose Che è che tira cose Che è Calati no Come devo pulire sta zona Oh Ok Ah questo è bello potente All'aspetta Mo prego Offerta Bazzarco dama Non ne avete le frecce quelle belle Quelle sacre No Non ce le avete 5 frecce normali Voglio una pietra Voglio una freccia sacra Non mi date le frecce sacre Non mi date le frecce sacre Va bene Ehm Ehm Allora Se non mi date frecce sacre Io devo fare così Allora Richiedo assistenza A questo Salve Ehm Ok Mi fa piacere Se non te ne vai Se non te ne vai Io mi prendo Mi compro A bazzar Altre tazze Quante cose La dai In offerta Ehm Un arco 56 Mentre il mio E' arco 80 Ok Do Faccio Offerta Offro questo Ok Ehm Odaci ribi zen Aspetto pure Lo do in offerta Sì Non ho altro Non ho No Non ho altro Vabbè Ehm Ok Amico Mi servi Tantissimo Tu non hai idea Di quanto Mi servi Proprio Tantissimo Adesso Ah E qua c'è Qua c'è Lungotto Buono Cosa è l'ingolchizzo Tu mangi Perché dice Che è buono Su Vabbè Comunque Io dovrei andare A recuperarmi Quella Posso vedere se le frecce Normali fanno effetto Su quello Ma le frecce Normali fanno effetto Quindi Alla fine Perché ho usato Quelle sacre Te le frecce non lo ne, non lo fa ne, non lo fa Oh! Ok 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 Bomba esplosiva Io Ci stavo rimanendo secco Ma va bene Ecco Arqua sacra Bomba esplosiva Eccolo Salve Dai Eccolo Ok 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 Devo curarmi Devo curarmi Mi steno Devo curarmi Salute due Prega Posso prenderne una Fetta Bazar Kodama Una tazza Una Posso prenderne anche due Sì A posto E poi E poi sono Cavolacci amari Poi sono Poi sono cavolacci amari Poi sono cavolacci amari In blu In blu In blu Double D Double D Double D Double D Aspetta che c'è quello lai Double D Double D Double D Di Due Oh Tipo Deposito No Io ho sguagliato Io voglio prendere questo Allora io ah 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 io ho fatto lui ci vediamo i compiti ma è qua un nemico l'uno ora però c'è l'altro forza in vera via eh 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 adesso no no levante 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 ok doppio cicatana di Mino cinta del ladro queste sono tutte offerte che farò ok salve ok il blu non è messo benissimo io manco un babbio e una curetta me la farei oh io frena tomba non è qui me so perso la mia tomba ah il blu è morta bene il blu è morta aia io prendo ste frecce torno andate qui indietro due tazze dovrei averle devo avere due tazze no ne ho una ne ho una sola e la mi è costata quattro non mi è servita a nulla mi è costata quattro eh ok e quindi venga venga almeno almeno l'affronto solo lei ok come oh forse finta Ehi! No! No! E' un pochino! Stamina! 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 la stagna va beh quindi va beh that's it allora io ho ricordito solo 6 di questi cosi allora fai offerta si facciamo offerta perchè ecco infatti la doppio cicatana di min allora questa è offre doppio cicatana di offriamo ma è che sto spezzapalizzate in tutta onestà possiamo fare offerta e tanti saluti ok tol'ultimo è sto martello di legno della quercia però spezza attacco rapido no però non lo offro aspetta fai affetta posso vediamo alla se ma io cinta dell'altro questo si può si può si può offerta dai furfante schienieri delle rete schienieri delle rete offerta anti saluti grazie l'elisir usate no lo sai no gli oggetti ritengo aspetta meno che se mi dice tutti gli oggetti cosa mi da anche consumabili posso offrire anche consumabili magari no non posso offrire consumabili vabbè però questo mi consente abbazzar codà ma di per quante poche frecce però mi servono mi serve l'assistenza mi serve l'assistenza le frecce magari c'ho la fortuna che me le che me le trovo assistenza guarda ma che sfiga solo questo c'ho e chiediamo assistenza solo a lui va bene no bravissimo io sono fu io pensavo fatesse un pochino di male non pensavo bruciarmi a sta maniera dobbiamo provarci da solo salve scuserei ok ok ma porca ok emy fear e sale emy fear me lo butto giù ma non voglio fare di nuovo lo scemo va bene così eh va bene così tu meglio che niente dai ciao zima se e quanto potrei non dire no la vita ah ne arriva uno solo no la vita ne arriva uno solo ma arrivano tutti sì vabbè che che io ho la tentazione che qua va a finire marino fammi prendere eh no che aspetta e fra un po' la vedo anch'io porca posta aspetta prega prega coño Non ne ho le tazze Non ho Niente Ho droppato Cose da aprire Per corso No Posso un attimo Scusate Posso un attimo verificare la situazione Perché Io dovrei verificare una situazione Cose Apprendibilità La bestia ne è andata dal fumo Che dovrei apprendere io Metamorfo Ah No Falcio Ah Cos'è Para L'attacco Dopo un cauto Movimento Torno adesso Sfera Un fendente Innever Solo Impugnatura Intermedia Eseguo il colpo Rotante Dopo Un attacco Rapido Per poi Balzare Indietro Passa Passa la forma Che no Yeah Yeah Sono Pugnatura Alta Ah Questi sono Questo cos'è Vabbè Io Vabbè Io Allora L1 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 E triangolo Mentre sei in guardia Ah Perché ho questi punti abilità Che io non Non ne ho Che non ne ho Palli di idea Segui il colpo Rotante Vabbè Io Vabbè Facciamo Sto cosa Mi sa che La scena Il tuo falcione Ulteriore Sollevo Rapidamente Sono Allora L1 Mentre sei in guardia L1 Quadrato Mentre sei in guardia Ah Ok 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 Forse Non è Allora Continuata Ok Allora Il pugnato intermedio È quella che uso di più Quindi Onestamente L'ho Questo Quanti punti Falcio Questo Quanti Mi chiesta Te danni Limiti Che quando Lo solote Al massimo E la tua Un'unica Un falcione No Non posso Devo fare questo Prima Eh Trascina Il tuo falcione Allora Ok No No Cosa dove fa Che cosa Mi Ah Devo completare Una missione Ah Ok Quindi proprio Non posso Questo invece Devo completare La missione Va bene Questo Devo completare La missione Ci avete La mamma Come dico Io Ci avete La mamma Come dico Io Va bene Io Ho completato Completato la missione E io Gira Gira Il corpo E accumulare Per sferare Due fendenti Diagonali All'emico Solo In pugnatura Alta E Vabbè Io Vabbè Potevo anche Ma perché Non me li Disparmi Sti punti Io Allora Tu Poi Samurai Che Che abilità Posso avere Si attiva Quando recupero Il completo Il Chi Da un ritmo Chi Allora Pugnatura Intermedia Vabbè E Tu cosa Cambiare In pugnatura Mentre E Aumenta La quantità Di Chi Ho recuperato Non Sono Così Bravo Si attiva Quando Sono In pugnatura Alta No Una Schivata Eseguita Aumento Giusto Attiva Automaker Eppure Aumenta La tua Difesa Quando Esegui Purificazione Con Un ritmo Chi Con Tempito E recupera La mafia La mafia La mafia Possibile Potrebbe Essere Questo Non Missione Completata Questo Qui Non Lo so Questo Ci vuole La missione Completata Questo Non Lo so Questo Missione Completata Ritmo 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 Chi Allora Qua Quando Ritmo Applica Come Ritmo Chi Questo Cambiano Non Sono Proprio In Grappa Facciamo Una Cosa Questo Tanto Puoi Meglio Sommeli Conservo Ok Qua Metamorfo Che Cosa Che Cosa Vuole Che Cosa Quando Allora Quando Ma Questo Invece Quando Purifica Un Regno Rokai Con Ritmo Chi Inter Perfetto E Questo La Formulacamente È Il 7% Sì Va Bene Va Bene Va Bene Va Bene Si Può Fare Ancora Si Può Fare Ancora Si Può Fare Ancora Perfetto L'aumento Del Regno Rokai Della Ceppa Va Bene Signor Rit Ho Fatto Questo Piangere Ho Resso Tantissimo Prossima puntata Piangerò Tantissimo Che Dovrò Provare A Fare Tutte Quelle Robbe Da Solo Perché Non Ho Abbastanza C'è Non Ho Proprio Tazze E Dovrò Fare Tutto Da Solo Piangerò Tantissimo Alla Prossima